Basta, vengono qui a stuprarci, a picchiare gli anziani in casa, a derubarli, insomma ne fanno di ogni, ma non è possibile. Tutti sono molto cauti nell'esporsi su questo tema perché hanno paura di perdere voti. Che sembrano prescindere totalmente dai paesi, dai problemi che questo paese deve affrontare. Senza i migranti, fra qualche decennio, i paesi europei saranno spopolati e abitati da anziani. Sì, c'è un paese dove c'è un'azienda facile per le donne in potenza, se puoi sapere e chiamarlo per me. Sì, c'è un paese dove c'è un'azienda facile per le donne in potenza, se puoi sapere e chiamarlo per le donne in potenza. Grazie.